mauro e il leone sulla cima del mondo di pinin carpi capitolo 16 per le stradine di caldaneve e adesso torniamo a guardare cosa succede nella casa sotto la neve dove il mauro il leone e i loro nuovi amici stanno dormendo beh dormono tutti a caldaneve c'è un silenzio che fa dormire quanto si ha voglia e tutti compresi i bambini e i leoni dormono tranquilli finché suona la campana delle ore allora il mauro si sveglia salta giù dal letto e si veste però come le altre volte la campana suonò in modo strambo prima cinque rintocchi poi nove poi due poi quindici poi tre poi si sentì un ronzio bronzeo come se il batacchio sfregasse la campana tanto per fare un po di rumore ma quello scampanio non era un segnale segretissimo anzi intanto il mauro si era accorto di un'altra stranezza fuori dalle finestre verso la piazzetta si vedeva la luce del mattino c'era una bella luce chiara eppure la sera prima l'aveva ben visto la piazza era coperta di ghiaccio come le stradine forse là sopra c'era un ghiaccio trasparente entrò il nonno e canterellò svegli svegli su bambini sono le otto c'è la scuola svegli svegli su bambini perché gli altri tre continuavano a dormire come angiolini svegli che il papà e la mamma sono usciti già da un'ora e tu aggiunse rivolto al mauro vuoi andarci anche tu a scuola insegnano delle cose interessanti sai no no grazie signore rispose il bambino adesso non ho tempo per queste cose piuttosto mi dici come mai lì fuori si vede la luce del giorno e il ghiaccio che c'è sopra è trasparente gli rispose vila che si era alzata e vestita in un attimo il ghiaccio non è trasparente però ogni mattina passa il lanternaio e accende tante lanternine bianche sotto i tetti così di giorno c'è molta più luce e sembra quasi estate ma solo nelle piazzette le accende poi la sera le spegne e subito vila abbracciò ulisse che era entrato anche lui nella stanza strillando che belle ore che sei ma poi restate qui con noi molti giorni vero dai restate per piacere e dicevano insieme joel e neila mentre si vestivano sarebbe bello rispose il mauro e ma dobbiamo raggiungere il paese di ulisse la strada è lunga anzi spiegateci bene da che parte dobbiamo andare per uscire da caldaneve e arrivare al mare il vecchio fece sì con la testa si erano messi tutti a tavola a mangiare polenta con molto latte fresco poi le campane ricominciarono a suonare in quel modo strano il nonno allora disse sono le otto e mezzo bambini andate a prendere le cartelle il mauro chiese ma che strana campana ma come fate a sapere che ore sono che a contare i rintocchi non si capisce niente e il vecchio certo chi non è abituato non può capire il fatto è che bel grosso il campanaio prima di suonare va a bersi un quartino di vino bianco al gelo all'osteria della neve arrostita poi fa dei pasticci tra l'altro si fa aiutare da un suo amico e chiacchierando fanno una confusione doppia però mi è venuta un'idea bambino bello fuori dai ghiacci vi faccio accompagnare proprio da bel grosso che d'estate va sempre giù al mare col suo asino ricomparvero gli altri tre vestiti di pellicce e con le cartelle in spalle salutarono il mauro e ulisse anzi neila passando vicino al bambino gli diede un bacino strillando sai mauro io a te ti sposerei sai e anch'io gridò felice vila dandogli un bacino anche lei ma che noiose si arrabbiò joel ciao mauro ciao ulisse tornate a trovarci però sì che torneremo sì rispose il mauro e il leone che si prese anche lui un bacio dalle sue dalle due bambine scodinzolò poi i tre corsero via da una stradina mentre il nonno seguito dal mauro e da ulisse si avviava intorno alla piazzetta alla finestra della locanda adesso c'erano le facce allegrissime di un vecchio e di tre vecchie che strizzavano gli occhi al mauro chi sono quelli chiese il bambino sono dei miei amici i cantastorie di caldaneve si chiamano paddy agatuzza dorotea e biddy e inventano le storie per noi qui ne occorrono molte e loro le inventano poi se le raccontano ridono cantano in certi giorni litigano e si danno persino le botte poi mangiano bevono ballano hanno sempre fatto così che bello però le loro storie ce n'è una di una bambina con un cappuccetto rosso la conosco disse il mauro mentre ulisse faceva sì col muso per dire che la conosceva anche lui strano mormorò il nonno è strano che la conosciate anche voi beh ce n'è un'altra di una ragazza bianca come la neve che aveva una matrigna cattiva conosco anche questa ridacchiò il mauro e anche il leone rideva il nonno rimase zitto per qualche minuto continuando a camminare poi aggiunse beh non importa però che belle quelle storie e sospirò le stradine erano tutte un po buie perché erano illuminate solo dalle lanterne sulle porte dalle finestre accese e dai riflessi del ghiaccio vivero molti bambini che corrivano a scuola e anche una slitta scampanellante arrivarono in altre piccole piazze tutte molto chiare perché illuminate dalle lanternine bianche sotto i tetti in una piazzetta c'era una casa piccolissima di legno con un insegna su cui era scritto albergo reale di calda neve il mauro chiese ma che albergo è che dentro ci può essere solo una stanza al massimo e poi qui c'è anche il re o no non c'è il re e non è un albergo quello è il posto dove lavoro io che sono il borgo mastro e lì dentro dipingo tanti pupazzetti di regine principi essere fate streghe cenerentole alici e così via ma che mestiere è quello del borgomastro chiese curioso il leone non so spiegartelo bene rispose il vecchio il borgomastro è il sindaco quello che dà i consigli insomma è quello che fa scavare le gallerie nella neve e in primavera quando c'è il disgelo fa sgombrare le strade poi inventa delle cose poi scrive delle lettere un po a tutti per fare gli auguri per spiegare come si preparano certe torte e così ma andiamo là che c'è la torre delle campane arrivarono in una piazzetta che aveva in mezzo degli alberelli e dei cespugli di mughi ginepri rododendri tra i cespugli c'era un passaggio che portava a una torre di pietra che saliva più su del ghiaccio sulla porta c'era un insegna con scritto torre della campana e del cielo mentre si avvicinavano vedendo quella scritta il mauro chiese al vecchio è lì che suonano la campana che poi si sente in tutto il paese vero ma perché c'è scritto che è la torre del cielo bella idea no rispose sorridendo il borgomastro le campane le rondini il cielo e quelle cose lì che si vedono sui libri di scuola a nono volevo dire che quella è anche la torre del cielo perché è più alta della neve che c'è sopra e dentro c'è una scala che porta dove si vede il cielo è l'unica qui a calda neve arrivarono alla porta della torre dentro c'era il campanaio bel grosso che da almeno cinque minuti scampanava delle ore che dovevano essere le nove per chi lo capiva con lui c'era un uomo piccolo e magro che aveva in testa un berrettino da ciclista si chiamava marcantonio per spiegare bene che tipi erano quei due bisogna dire che prima di ogni scampanata non si bevevano affatto un quartino di vino bianco al gelo ne bevevano uno per cominciare e uno per finire così il nonno il mauro e ulisse li trovarono già talmente brilli che suonavano cantando grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti